benvenuti sul mio canale tutto dal web come sempre pronta per voi per darvi le anticipazioni del serale di amici puntata registrata oggi 11 aprile che noi vedremo in onda sabato 13 aprile vediamo grazie a super guida tv che ci dà le anticipazioni cos'è accaduto e chi è andato al ballottaggio finale ospite in studio gaia gozzi che è stata davvero pazzesca e si è commossa pensando al serale che ha vissuto lei anni fa ospite come comico vincenzo de lucia mentre i giudici sono sempre loro tre giuseppe cristiano mangioglio e michele bravi la prima manche vede sfidarsi i cuccalò e gli zerbicelle la prima sfida mida canta contro petit vince petit poi c'è un guanto di sfida su un'improvvisazione sofia verso merisol vince sofia inizia una discussione tra emmanuello e la celentano un altro guanto di sfida con protagonista francesca tocca mida verso olden vince mida al ballottaggio vanno petit olden e merisol l'eliminato provvisorio è petit olden canta solo stanotte mentre merisol si salva per prima seconda manche nuovamente cuccalò verso gli zerbicelle prima manche sarà verso dustin vince dustin poi sofia verso olden che canta se piovesse il tuo nome vince sofia che balla su le note della bambola terza sfida sarà verso merisol vince merisol al ballottaggio finale vanno sarah e sofia sofia si salva e sarah finisce al ballottaggio finale terza sfida sono gli zerbicelle contro i pettitodo martina verso dustin vince dustin li jolie in duetto con martina verso merisol vince merisol in eliminazione finale vanno martina e li jolie martina si salva e al ballottaggio finisce lil quindi ragazzi ricapitolando petit li jolie e sarah sono al ballottaggio finale petit si salva per primo al ballottaggio definitivo che sceglierà l'eliminata vanno li jolie e sarah ovviamente lo sapremo sabato perché maria annuncerà il verdetto in casetta inserout恭ovcchio inserouti inserouti